Nelle Marche 60.000 abitanti si dichiarano diabetici, oltre 10.000 nell'area di Marche Nord e 4.000 nella città di Fano. La percentuale di ricoveri per diabete non controllato e con complicanze è più bassa rispetto al dato nazionale, ma mancano ancora sia diverse tutele per chi affetto da questa malattia cronica sia un'adeguata informazione. Anche a Fano c'è un'associazione, la Fand, che si batte danni affinché la categoria possa ottenere più diritti. I centri diabetologici sono rimasti chiusi, aperti solo in caso di emergenze particolari, quindi tutte le visite sono state spostate in avanti. Di che cosa ha bisogno la categoria? Ci sono tanti diritti forse che reclamate? Proprio così, diciamo proprio Covid-19 ha messo in evidenza un aspetto molto importante, che la diabetologia deve in qualche modo stare sul territorio, perché stare dentro gli ospedali vuol dire creare situazioni di questo genere e noi non ce lo possiamo permettere. Quindi la diabetologia è opportuno che non solo a livello regionale, ma proprio a livello nazionale torni sul territorio. Andare sul territorio vuol dire integrarsi con i medici di medicina generale e quindi essere più in prossimità delle persone con diabete, cioè più vicini alle persone. Spesso si sente parlare, mettiamo la persona al centro dei problemi, al centro di tutto. Metterela al centro vuol dire che i servizi vanno verso la persona e non viceversa. L'ultimo ed importante atto che il Presidente Benini ha messo in campo è la realizzazione di un manifesto dei diritti dei diabetici marchigiani. Tra i punti cardine rientrano una educazione terapeutica, più medici specialisti e infermieri dedicati, più risorse da destinare all'uso di farmaci e alle nuove tecnologie. Il manifesto è stato inviato a tutti i sindaci delle Marche e alle istituzioni regionali per una condivisione più consapevole. Come sappiamo il diabete è una malattia silente, che tu non te ne accorgi di averla, ma quando te ne accorgi rischi di avere delle complicanze importanti. Un manifesto che non si è fermato a livello regionale? No, infatti io essendo anche Vicepresidente nazionale della FAND, questo manifesto che è partito dalle Marche è stato portato al Ministro della Salute, Roberto Speranza, proprio per manifestare che a livello nazionale le problematiche che sono nelle Marche non sono solo delle Marche, ma sono in tutta Italia.